Sì, no, giusto per concludere un po' la carellata, dato che in tre, in realtà come avete visto, build, pacchetto, digitalizzazione, contenitore e aggancio per industria culturali e creativa tutto ciò che è digitalizzazione, comunicazione, valorizzazione, arrivare con Innovate adesso è difficilissimo. Innovate in realtà, queste vi rimangono e li vedrete, hanno un sistema molto particolare che riguarda proprio l'innovazione dei servizi nel senso che tutto ciò che avete visto per build e per create Innovate è un substrato, cioè tutto ciò che è tecnologie abilitanti per fare quello che avete visto. Ok, quindi lavorano in particolare su tutto ciò che riguarda i diversi aspetti della gestione dell'edificio e non solo, qua vedete un tipico esempio di quello che è il real estate management, perché chiaramente parliamo di patrimonio immobiliare quando parliamo di musei, biblioteche, eccetera, quindi edificio, in questo caso andiamo a lavorare sul management dell'edificio e con dei servizi che sono ovviamente tecnologie a supporto, dei servizi che sono per lo più dedicati al mantenimento dell'immobile, ai suoi impianti, la continuità di utilizzo e fruizione dell'edificio e questo per rimanere nella tematica di oggi. Più in generale Cluster Innovate si occupa proprio in generale di servizi e tecnologie abilitanti, edificio, spazio, pensiamo per esempio allo spazio di lavoro, come facilitare quindi la creazione e la comunicazione all'interno dello spazio di lavoro. Tipico esempio, se fosse qua Elisabetta lo farebbe sicuramente, è l'edificio cognitivo, nel senso che dato un edificio esso può essere smart, quindi quello che vi portavo gli esempi prima, cioè cercare di mettere in comunicazione quello che è l'apparato murario in generale, l'edificio come contenitore con il contenuto cognitivo vuol dire che comunque impara anche da tutte le persone che utilizzano quell'edificio. Banalmente, e qua mi riaggancio alla cyber security, tutti voi avete uno smartphone, qualsiasi marca sia, è indifferente. Tutti voi andate sicuramente a guardare le mail, a guardare Facebook, Instagram, qualsiasi social, magari avete la famosa app di cui vi parlavo prima per gestire il vostro immobile, che sia la casa o che sia il museo, chiaramente l'app funziona sempre e comunque. Questo vuol dire che voi state affidando un'infinità di dati al cloud, ad un'entità che non sappiamo neanche noi. Ecco, Innovate si occupa di questo, di rendere cognitivi i vostri edifici, di rendere in comunicazione quei dati, quindi non l'ammontare di dati, ma la bontà del dato e soprattutto di renderli sicuri. Quindi di non dar l'impasto a chiunque, ma parlare proprio di cyber security. Ecco quindi che vedete quello che può essere un facility dedicato proprio all'ecosistema, ovvero sia lavorare con un'offerta di servizi calata sull'utente, quindi human center, comprendere quelle che possono essere le richieste dei servizi e in questo modo affrontare con un'offerta di strumenti digitali adeguati, ovvero sia cerca di essere un interprete di quello che è il business, la parte tecnologica e l'utente finale.